Tornano i cittadini fanesi a collaborare con l'amministrazione comunale per indirizzare l'azione amministrativa nei vari quartieri della città. Il Sindaco l'aveva promesso, entro 100 giorni si ricostituiscono i consigli di quartiere. Sindaco, allora, a che punto siamo e che cosa avete deciso? Siamo a un ottimo punto di partenza che è l'approvazione da parte della Giunta del regolamento dei consigli di quartiere. Sono 20 anni che sono state soppresse le circoscrizioni e nei primi 100 giorni era un impegno che ci eravamo presi e che con l'impegno dell'assessore Santorelli e di tutta la struttura amministrativa coordinata dal segretario Morganti siamo riusciti ad avere una delibera che dovrà essere approvata al Consiglio Comunale e che istituirà 10 consigli di quartiere. Abbiamo voluto allargare la platea in particolar modo ai giovani, quindi dai 16 anni in su potranno candidarsi all'avviso pubblico che faremo uscire nei prossimi mesi perché l'obiettivo nostro è la partecipazione di tutti i cittadini. Quindi 20 persone per ogni quartiere faranno parte dei consigli di quartiere e questo è un obiettivo che ci eravamo dati e che mi auguro riscontri il maggior afflusso di persone possibile perché noi abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini. L'abbiamo detto in campagna elettorale, oggi approviamo questa modifica del regolamento e mi auguro quanto prima di fare la prima assemblea con la carica dei 200, quindi dei 200 cittadini che ci daranno una mano, ci daranno supporto, consigli e anche fondamentalmente saranno l'interlocutore con cui condividere il bilancio che intendiamo portare ogni anno all'approvazione del Consiglio Comunale. Assessore Santorelli, come avete suddiviso il territorio comunale? Abbiamo suddiviso il territorio comunale in 10 quartieri, quindi rispetto alle vecchie secci coscrizioni che eravamo abituati a conoscere abbiamo deciso di frazionare in più quartieri rispettando un criterio diciamo di popolazione che vada tra le 5.000 unità e le 8.000 unità circa. In questo modo riteniamo di poter dare rappresentanza un po' a tutti i quartieri, faccio degli esempi abbiamo deciso per Sant'Orso e Bellocchi di lasciare due quartieri singoli, quindi Bellocchi farà quartiere a sé così come Sant'Orso e poi abbiamo diviso con la direttiva di Via Roma la vecchia seconda circoscrizione che tra l'altro a me è anche molto cara. E come avverrà l'elezione dei consigli? L'elezione dei consigli avverrà dopo avviso pubblico a cui chiederemo appunto di partecipare, di iscriversi i cittadini che vogliono occuparsi della cosa pubblica, di dare una mano all'amministrazione, di essere anche da pungolo e quindi anche di fare proposte, chiederemo di partecipare a un avviso pubblico dopo il quale 5 persone saranno estratte a sorte e dopo questa estrazione a sorte il Consiglio Comunale si occuperà di eleggere le restanti 15 persone. Quindi in questo modo diamo ovviamente ruolo guida anche al Consiglio Comunale e speriamo che ci siano tante adesioni per ogni quartiere così da far riattivare anche quella connessione che avevamo promesso anche in campagna elettorale e che abbiamo avuto in campagna elettorale con tutto il territorio e che credo che debba continuare anche con la Giunta e anche con il Consiglio Comunale. E i quartieri avranno una loro, seppur modesta, autonomia finanziaria? Avranno un'autonomia finanziaria ovviamente modesta compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ogni bilancio annuo. e diciamo che possiamo perdere una cifra sui 15-20 mila euro annui per ogni quartiere con il quale potranno proporre di fare degli acquisti ad esempio per i parchi pubblici oppure di fare delle iniziative. Poi tramite gli uffici avranno questa possibilità di spesa. Assessore, veniamo ai tempi. Quando si riunirà il primo Consiglio di quartiere? Diciamo che per la prossima primavera potremo avere i Consigli di quartiere insediati che eleggeranno al loro interno il Presidente e il Vicepresidente.